Stiamo lavorando a ritmo serrato e abbiamo valutato diverse piste, speriamo di arrivare presto, alla soluzione del caso non escludo novità nel prossimo futuro. Così il procuratore capo di Palmi Emanuele Crescenti commenta lo stato delle indagini per fare luce sul movente e sull'autore dell'omicidio della dottoressa Francesca Romeo avvenuto domenica 19 novembre scorso lungo i tornanti della strada provinciale numero 2 poco fuori dall'abitato di Santa Cristina da Spromonte. La dottoressa viaggiava su una Peugeot 308 alla guida c'era il marito, anche lui medico Antonio Napoli, Francesca Romeo aveva appena finito il suo turno presso la guardia medica del piccolo paesino aspromontano, erano da poco passate le ore 8 del mattino e i due coniugi avevano appena superato le ultime case di Santa Cristina imboccando la strada per il ritorno a casa all'altezza della frazione Sant'Anna di Seminara. Improvvisamente davanti all'auto è apparso un uomo, il killer imbracciava un fucile, quasi certamente un sovrapposto caricato con un colpo a palla e il secondo a pallettoni. L'assassinio li stava attendendo lungo la strada e ha sparato due colpi, il primo a palla, ha colpito il parabrezze dell'auto, ha sfiorato forse la dottoressa che era seduta sul sedile passeggeri, ha lasciato un buco nel vetro ma non ha preso nessuno dei due occupanti. La Peugeot ha proseguito la soccorsa per poche decine di metri ma il killer con estrema calma si è spostato sulla sinistra del veicolo e ha sparato un secondo colpo indirizzato verso il finestrino anteriore lato guida. La cartuccia questa volta era caricata a pallettoni e il colpo ha ferito di striscio al braccio sinistro il dottor Napoli ma ha raggiunto la dottoressa tra il collo e la testa sul lato sinistro e non ha dato scampo. Francesca Romeo è deceduta dopo pochi istanti. Un omicidio anomalo, strano, difficile da inquadrare anche per i trascorsi della donna ritenuta da tutti come una professionista esemplare. E anche se la dinamica del laguato è apparsa quasi subito avere caratteristiche che potevano sembrare di stampo mafioso, forse il movente potrebbe non avere nulla a che fare con ambienti legati a contesti di criminalità organizzata. Un vero rompicapo per gli investigatori della Polizia che stanno svolgendo le indagini. Il primo punto da chiarire era ovviamente chi potesse essere il vero obiettivo del laguato. La circostanza che il secondo colpo fosse indirizzato sul lato di guida potrebbe far pensare che l'obiettivo del killer fosse il marito. E ovviamente anche su questo aspetto non secondario. Si sono soffermate le indagini, ma pure per quanto riguarda il dottor Napoli l'opinione comune è che si tratti di un professionista integerrimo che accompagnava la moglie al lavoro quando la donna era di turno di notte. Il marito è l'unico testimone diretto di quello che è successo. Si sa che è stato a lungo sentito degli inquirenti in più circostanze e che le sue dichiarazioni al momento sono coperte dal massimo riservo. I poliziotti hanno anche sentito parenti ed amici della coppia bocche cucite tra gli inquirenti del territorio, ma anche tra quelli della squadra mobile della questura di Reggio Calabria che sta cooperando con le indagini.